un viaggio in funicolare che sembra un giro sulle montagne russe succede in svizzera dove la gelmerbahn con il suo centosei per cento dipendenza detiene il record di funicolare più ripida d'europa il trenino viene utilizzato nel periodo estivo per raggiungere il lago artificiale di gelmese a metri di altezza sopra berna e lungo il percorso si può godere di un panorama a strapiombo sulle rocce davvero mozzafiato grazie